ciao a tutti bentornati sul canale come avete letto dal titolo oggi vi parlerò di una tecnica molto particolare in effetti parleremo di uno spinning non dedicato ai classici predatori che conosciamo bensì aurate saraghi e perché no anche le mormone ma com'è possibile pescare questi tipi di pesce che solitamente amano mangiare delle esche vive delle esche naturali in realtà lo facciamo con la tecnica del light spinning una tecnica che purtroppo siamo abituati ad associare a piccole perchie piccole sciarrani con altri razzolatori delle scogliere in realtà io vi posso garantire che con la giusta esca la giusta montatura pescando anche con le giuste condizioni meteomarine possiamo in realtà insidiare dei pesci completamente diversi anche con una certa frequenza non ci credete guardate un po' questo video è un po' questo video come avete visto nel video quella era una battuta dedicata principalmente ai saraghi purtroppo qui le condizioni non sono quelle ottimali ma vi posso garantire che nei luoghi giusti si possono fare davvero dei bei carnieri e devo ringraziare gregorio che infatti lui vivendo sul litorale laziale dove non ha queste scogliere aspre e soprattutto con fondali molto altri riesce a pescare orate e mormone con una frequenza addirittura maggiore e infatti lui mi ha mandato un video e proprio in quel video ho voluto costruire anche una montatura per poter pescare su questi scogli senza incagliare ad ogni lancio Matteo il summer rig ha funzionato diretta live una bella oratella incazzata adesso andiamo a rilasciare questa è tutta per te ciao questa è una delle tante catture che si possono realizzare come è possibile quindi pescare gli spari di a spinning beh innanzitutto bisogna pescare con esche che non sono le solite esche quindi non stiamo utilizzando i soliti shed dei soliti minno ma stiamo utilizzando dei vermi o dei piccoli gamberetti che potete trovare diciamo in diverse marche diverse confezioni la montatura è una montatura molto particolare possiamo pescare sia con una montatura scorrevole che però va bene quando l'acqua non è troppo alta ma soprattutto quando non ci sono troppe rocce aspre che vanno a farci incagliare ogni due secondi oppure con un'altra montatura particolare che io ho ideato proprio per queste scogliere come vedete qui sto pescando con una montatura possiamo chiamarla drop shot quindi un amo che si trova distante dal piombo piombo che sa che è sul fondo e che va sostanzialmente a proteggere un po' tutta la nostra montatura se si dovesse incagliare il piombo quest'altro piombino che tiene tutto quanto fermo si sgancia perderemo il piombo però non perderemo tutta la montatura questo proprio perché su queste scogliere è molto più facile incagliare ovviamente che sulla sabbia ma perché sia io che Gregorio peschiamo con dei piombi e non peschiamo con delle testine piombate beh è facile dirlo purtroppo la testina piombata ha un problema innanzitutto quindi vuole un recupero abbastanza costante quando invece con saraghi orate e con altri tipi di pesce bisogna fermarsi quando peschiamo con questi vermi perché loro andranno a mangiare addirittura con escaferma proprio perché la scambiano per un piccolo crostaceo un piccolo vermettino che si trova tra gli scogli o sotto la sabbia ma soprattutto perché non possiamo scegliere la dimensione del lamo ossia le testine piombate sono fatte per predatori che hanno solitamente la bocca un pochino più grande rispetto ai saraghi alle orate le mormore invece quando dobbiamo scegliere l'amo è necessario fare una montatura di tipo diverso inoltre l'amo libero è un amo molto più mobile quindi l'esca si muoverà in maniera estremamente naturale sarà portata dalla corrente e sembrerà veramente un piccolo invertebrato o un crostaceo che si muove tra la sabbia e vi posso garantire che questo è proprio il segreto di questo tipo di pesca cioè riuscire a ingannare dei pesci solitamente abbastanza sospettosi e molto esigenti con delle esche artificiali e se non credete ancora che si possono realizzare delle belle catture vi faccio vedere le foto di mio carissimo follower walter che me le ha mandate che ha realizzato davvero delle catture incredibili addirittura guardate che orata di quasi un chilo con un piccolo crostaceo come vedete in questa montatura che io ho creato l'amo non è legato direttamente sulla lenza madre possiamo così dire bensì ha una piccola asola a cosa serve quest'asola ma solitamente quando compriamo questi vermi questi vermi sono abbastanza lunghi e purtroppo gli sparidi non è che mangiano tutta l'esca vanno solamente a prendere iniziano dalla parte della coda quindi il lamo è necessario che sia verso la parte della coda se non vogliamo utilizzare dei vermi troppo corti ed utilizzare comunque dei bei vermicelli che vanno a fare anche la selezione del pesce con questa asolina possiamo comunque innescare tutta l'esca ma allo stesso tempo avere l'armo verso la parte della coda vi posso garantire quindi anche molte più ferrate rispetto ad avere l'amo sulla testa o al centro e questo è anche un altro vantaggio rispetto alla testina piombata ovviamente con la montatura scorrevole e questo non è un grosso problema allora l'azione di pesca e ragazzi è un'azione di pesca che io sto cominciando piano piano ad imparare quindi prendetela un po per buona ma vorrei che ognuno di noi sviluppasse poi magari una tecnica e la possiamo anche condividere tra noi io cosa faccio vado a fare un lancio do qualche gercatina e mi fermo proprio quando mi fermo i pesci vanno curiosi o mangiano direttamente o alla successiva gercatina poi c'è la mangiata un altro tipo di recupero che ho trovato stranamente efficace è recupero più veloce vedete di questo tipo poi ogni tanto mi fermo i pesci non so perché vanno a seguire l'esca che si muove il verme che si muove quando mi fermo gli danno le condizioni giuste per pescare sono condizioni con molta più schiuma quindi quando c'è un movimento d'acqua maggiore e dove girano sostanzialmente i pesci maggiori quindi anche fargli qualche movimento in più non guasta ma vi posso garantire che le belle prede le ho prese con esca praticamente ferma dipende molto vedete ora ad esempio sta mangiando proprio in diretta ma con queste condizioni di mare è veramente un pesciolino è inutile andare a rompere le scatole a dei pesciolini perché gli spacchiamo solamente la bocca in queste immagini ragazzi potete vedere come si muove sott'acqua la nostra esca a seconda del tipo di montatura che andiamo a fare quello al movimento che io preferisco maggiormente è quello del piombo scorrevole perché l'esca un pochino più naturale si trova più distante dal piombo ma soprattutto possiamo utilizzare dei piombi anche parecchio pesanti se magari c'è parecchio mare mosso senza che vadano interferire con la nostra esca allora come esche io ho trovato eccezionale le esche sono oscentate quindi che hanno già quel profumo di cadavere possiamo dirlo sì che sono le esche della berkeley come questi vermoni qui come questi altri che sono davvero eccezionali o stranamente questi piccoli vermettini rossi che non so perché sarà che piacciono tantissimo poi ci sono questi qua questi della mariuco e anche possiamo utilizzare i vari gamberettini granchini che si trovano un po nei diversi siti dove andiamo a effettuare questo tipo di pesca ma purtroppo qui sebbene ci siano delle scogliere molto alte se utilizzassi questo tipo di tecnica su scogliere alte innanzitutto andrà a prendere solamente veramente le perche e gli sciarrani per un semplice motivo perché i grossi sparidi non vanno a mangiare sul fondo di solito durante la mareggiata si spostano lungo la parete e sarebbe impossibile fare questo tipo di pesca senza incagliare almeno 15 volte ogni lancio per questo dobbiamo farla su acque un pochino più basse tra gli scogliettini quando c'è un pochino di mare ed è proprio qui che in alcune condizioni quindi io vi consiglio di andare a pescare all'alba nei cambi di luce quando c'è un bel po di mare o anche la notte che si possono trovare delle grosse prede anche in pochi centimetri d'acqua ma soprattutto dove si può pescare senza lasciare un piombo o un esca ogni lancio cosa che avverrebbe su fondali più alti inoltre su fondali più alti il rischio è quello di andare a disturbare delle specie che magari ci può far piacere pescare come ad esempio qualche cerniotta o magari una riccioletta un altro tipo di pesce però in realtà sono pesci che possono crescere molto e andarli a pescare negli stati giovanili con questa tecnica e con loro purtroppo è molto efficace va solo a fare dei gran danni quindi una volta che abbiamo capito che stanno mangiando loro io solitamente mi fermo e me ne vado a pescare da un'altra parte insomma è un po' tutto da scoprire questa è una tecnica relativamente giovane che io sto cominciando a scoprire ora ovviamente ci vogliono le condizioni giuste anche il fondale giusto io qui non sono particolarmente fortunato mi dovrò spostare ma chi ha la possibilità di pescare in fondali un po più sabbiosi po più bassi ma soprattutto qualche scoglietto dove col mare mosso si riesce ancora a pescare bene ma sicuramente potrà fare delle grandi catture visto che la tecnica è una tecnica relativamente nuova e stiamo piano piano sperimentando le cose se riuscite a realizzare qualche bella cattura mandatemela su instagram taggandomi in modo tale che riusciamo piano piano anche a modificarla e a farla evolvere per farla diventare sempre più efficace con questo vi saluto mi raccomando andatemi a cercare su instagram mettete un like e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao